Un saluto agli amici di People at Motodays, siamo con Pierangelo Pondrini, Presidente del Motodamp Speed Up, che è nato nel 2006 dalla sceltazione di un altro Motodamp. Quali sono le attività principali del vostro Motoday? Sicuramente facciamo un turismo scettivo, facciamo ragunni, un altro film, un altro sito e un'attività, 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 un'attività. Poi, siamo una manifestazione più importante, non troviamo tutta la parte motociclistica all'interno dell'Ex Futurism, ormai quest'anno è la sesta. Tutto quello che concerne gare, esibizioni, start. La vostra giornata è quando? La nostra giornata del Motocrab è l'ultima domenica di luglio. Perfetto, in cui vi ritrovate, tutti l'amicizia e grande sicurezza. Senz'altro. E dunque, chiunque voglia avere delle informazioni le può trovare sul sito www.motoclamp.com Per qualsiasi informazione potete visitare il sito. Per noi è tutto dal Motodays 2011. Un saluto agli amici di People at Motodays. Grazie. 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 Grazie.